Ciao a tutti, io sono Drey E io sono Sorrow Bentornati, mascherati e mascherate in questo nuovo video di Fortnite C'è lo spazio Siamo tornati su... Sì, capito, hanno fatto tornare l'evento più rotto di tutti Lo sai quant'abuseremo delle spade laser? Ora, il vero problema Dove... Dai, se fossi una spada laser Dove andresti a nasconderti, Sorrow? In mezzo a qualcosa No, non mi importa di quello che dici Scendiamo direttamente qui Voglio affogare Ehi, cos'è? Ho chiesto al mio consulente consigli Ti ha dato consigli? Sì, l'ho ignorato Sì, e non l'ho ascoltato Io l'altro giorno ci stava la skin di Graf Graf, Graf Graf, Zach, Braf C'era la skin di Graf E non l'abbiamo presa Eh già Perché? Perché siamo scemi Guarda quanto starebbe bene con sto piccione cicciotto Uscito da Angry Birds 2010 Bellissimo E poi parte il ballo del loser Di Fortnite Se in caso non si fosse capito ancora non ho ripreso la voce Quindi continuo a parlare come un robot che ha nomenato Domo arigato, mister robato E vanno giù di sprangate di metallo Perché continui a parlare? Basta Ok, ho delle pozioni e delle pozioni Tieni, guarda cosa ti regalo Delle pozioni? Sì Oh, che bello Era proprio quello che volevo Il futuro Cerchiamo qualcosa di meglio di questa pistola bianca Che sinceramente gliela posso tirare in faccia alla gente Allora, usare le armi per lanciarle in testa Oh, spada laser Che schifo Dovina di chi è? Di... non lo so Ho detto che schifo, di chi può essere? Di Luke Ho detto che schifo Di Ray Sì Ok Di chi? Di Ray Chi? Ray Generico protagonista femminile di cui non mi importa Ah, sì, proprio lei Ah, sì, quello Proprio lei Ray Proprio lei, Ray Yay No, mi dispiace C'è gente Mi dispiace Si vede che non sono un fan della nuova trilogia Comunque adesso la gente che c'è la facciamo fuori Sì, sorro Più o meno è così che funziona Ho trovato una pistola blu Non mi può fermare più nessuno Più nessuno Più nessuno Nessuno Oh, salve No, mi dispiace Ciao, bello Io sono più uomo che... No, più Jedi che uomo Sono più Jedi che ninja Dov'è l'altro? I Jedi in realtà sono dei ninja Sì Sì, tecnicamente Dei ninja Dei ninja spaziali Molto fighi In realtà Come l'hai ammazzato? Con il fucile Ah, hai ragione Io uso l'approccio Bobbafetto Mandalorian Io uso l'approccio Sono Samuel L. Jackson Non sono pazzo C'era lui Ah, è perché hai la pelle di colore No, è solo perché Ah, perché sei un ninja scuro No, no Razzista No, la mia associazione era semplicemente che visto che lui è un figo e io l'ho ucciso come un vero figo Allora io devo essere Samuel L. Jackson Ah, ok, allora sì Adesso io sotto questa skin ho quella faccia Non ce n'è nessun'altra Non posso dire motherfuckers Oh, no, l'ho detto Accidonti Vediamo che cosa c'è qua dentro Esche Eh, ma cosa c'era in quella pozione? Perché mi sono appena reso conto che parli come Scottex ma stavi imitando un drogato E quindi indirettamente hai dato del drogato a Scottex Non l'ho fatto a posto L'hai fatto? No Non è possibile Allora, fammi... Cos'era, ciubecca? Eh, siamo in pieno stile Sì, hai ragione Hai ragione Sì, hai ragione Ci ho pensato solo a posteriori Spero tanto di arrivare da loro Guarda, mi trattengo e non gli sparo a distanza, eh No, guarda, abbiamo le spade laser Usa il cervello Sì, sì, infatti Dobbiamo... Questa strategia è validissima Ci avviciniamo alla gente Gli fammo buh e li picchiamo con le spade laser È il momento Ah Ma che ha fatto? È arrivato il momento delle esche È volato via Non sai dove... Oh, no No, no! Perché voli via? Il mio punto... Ah, non mi ha visto nessuno Ha, ha! Il mio punto debole Il salto Ma quanto siamo fichissi con le spade laser? Quanto ci stanno odiando? Oh, bravi Sapete giocare E noi invece siamo scarsi E noi siamo stupidi con le spade laser Ci dispiace La spada laser di Mace Windu Mi dà molto più testosterone Cioè, oh È viola Cosa vedono le mie fosche pupille? Un fucile d'assalto Ah, hai delle fosche pupille Mi sento molto stupido Però smettila Volevo scendere Io quando voglio insistere in una cosa insisto Cioè, così diventi Steve with a Griffin Con la testa formata di pallone da rugby No, ti prego Ce l'hai delle pozioni? Sì Mago, mi dai delle pozioni? Delle pozioni Tieni pozioni Cosa c'era in quella pozione? Cosa c'era? Lo conoscete tutti questo meme E dai, non ci fate sembra stupidi Scrivetelo nei commenti Proprio adesso Proprio ora Ad now Ammesso che YouTube vi abbia mandato le notifiche Dato che sono due giorni che non le manda nessuno Li mortacci su Infame Cosa? YouTube ti adoriamo Perché cosa ti balli? Balletto di ringraziamento Perché YouTube ci toglie le notifiche Ai vai YouTube 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 Chi c'è da dentro? Non lo so Ho preso il rampino e sono arrivato al terzo piano Non c'era niente Necessiterei, guarda Per stare con il perfetto asset da assassino Sì, bizzarra assonanza E la pozione quella grossa Che mi fa arrivare a 100 Invece di questo misero 50 da povero E vabbè, non è l'asset d'assassino Dammi la pozione Dammi la pozione Mi sono trasformato in un limone Tocca, non si può dire Non si può dire E diventi un disabile E' incannibalabile E' incredibile E' bestemmiabile Ti spacco la panda E' una vecchia pupa che non potete più trovare Ci dispiace Cioè, non... Noi citiamo cose che non esistono 26 Alla battaglia 26, 26, 26 27 L'ho ammazzo io Non è vero Ah, te l'ho stillata No, no, me l'ho stillata Non me l'ho stillata Te l'ho stillata Ma è stillata È bravo, sei soddisfatto? Sì Ti sei preso il merito Per qualcosa Che non hai fatto Come al solito Stai attento perché c'è gente dietro di te No, al solito è il contrario Però sì Sì, vabbè Era una cosa È detta così Ho la spada laser comunque Quindi non temo nemici Eh sì, ma se ti sparano alle spalle Ti ammazzano uguale Peccato che io ho sparato alle spalle al nemico Ah, pensavo stessi per dire Peccato, io non ho delle spalle Em C'è tipo Il tuo personaggio Che c'ha il modello poligonale Sia avanti che dietro Cammina C'ha tipo due culi Sì, è un mostro tremendo Sì, è orribile Che così ha qualcosa Un necromorfo di Dead Space Sì, cioè potrebbe uscire da un incubo Ah, raga Mi sto rigiocando a Dead Space Ci stiamo rigiocando a Dead Space È bellissimo Vorreste un gameplay No! Perché non possiamo portarlo Oh! Vorremmo tanto Però sappiate che il nostro approccio è molto diverso Dreno ogni 5x3 urla Io invece mi impanico Sì, ma tanto sono tutte cose che prima o poi vedrete su Twitch Salve Pistola Ciao Pensa È un video di SDF Movie Tu vedi la pistola Ciao Pistola Ciao E sospiro Non posso Non ho potuto fare il sospiro sorpreso Sospiroso Perché mi viene l'asma se lo faccio Cioè E muori Non sto ancora bene Non stonk Sembro vivo Ma in realtà sto molto male Non mi sento bene Addio Signor Stark Non mi sento molto bene No, sì Che tristezza Senti Ipotesi Se rimanessimo qua sopra a camperare come le peggio checche assassine Il primo cecchino che vede una macchia nera sul soffitto bianco Ho detto se rimanessimo qui come le peggio E allora fallo Ok, grazie E muori È bello discutere La democrazia è utile Allora, vediamo Che come si vince un dibattito alzate la voce Sì, guarda Consiglio generale per tutti Se non avete argomentazione e dovete vincere un dibattito Iniziate a ripetere lo stesso insulto Fino a che il vostro opponent non sbroca Guarda Sorro non sai camminare Ma non è vero Non sai camminare Ma no Non sai camminare Vaffanculo Non sai camminare Vedi, funziona La gente è tirta così È questa la tattica, ragazzi Se ci fosse la chat audio La chat vocale in Fortnite Penso ci avrebbero dato la caccia Solo per farci stare zitti Oddio, fateli stare zitti Oddio, ma dove sono quei due? Vi prego, fateli fuori Vediamo che cosa c'è dentro questo forziero Cosa c'era in quella pozione? Ancora La spada laser di Mace Windu Ma ne ho già una Guarda, mi è venuta in mente una cosa folle Vabbè, scusa, fai il dual wielding Certo, ovvio B classo, no Stavo pensando di fare Tipo, sai, le sfide quelle assurde Vinciamo la partita Certo Vinciamo la partita Solo spade laser Cioè, tipo, ci riempiamo l'inventario di spade Di spade laser, sì Il primo che arriva Che è un lanciamissili o qualcos'altro Ci fa fritti Effettivamente Vedremo nel corso di questa partita Io sono convinto che si possono deflettere i missili Certo Non è vero No, sono convinto che con il giusto cerpello Anche un uomo con la spada laser Può sconfiggere un uomo con una spada laser No, puoi Eh? Come scusa? Un uomo con una spada laser può battere un uomo con un lanciarazzi o qualsiasi altra tipologia di arma Tranne forse il cechino Vabbè, no, vabbè, perché non lo vedi Vedremo nel corso del... Allora Scopritelo nella prossima puntata di qua Mancano le scale Eh, sì, infatti me le costruiste Grazie Questa zona è tipo la zona perfetta quando ti vuoi mettere in un punto che sai La gente ci deve passare Tipo il cancello infernale Noi siamo qui Voi passate Noi vi spariamo E funziona così È un trade molto equo È un pezzo, un petaggio Finiamo sempre qua Non sto attirando nessuna attenzione No, siamo antisgamo Nessuno è nei paraggi C'è un festino nella mia scatola Sì, queste sono le feste che si fanno su Metal Gear Solid post fine gioco Quello che succede nella scatola Rimane nella scatola Tutti quanti sbronzi e liquid nella scatola che gira in tondo Se non avete ancora giocato a Metal Gear vi consiglio di... Aaaaaah È un verbo vuol dire di giocarlo Voce del verbo Aaaaaah Senza intonazione Ti recuperi un titolo molto bello No, fuga, fuga, fuga Quanto vicino ogni volta Vedi che il cecchino è tossico se la gente lo sa usare Ma perché? E grazie Traiardoni Infami Con l'asciugamanino Disgrazioni Traiardati Asciugamani Disgraziani No, non funziona Che cosa vuol dire? Non ne sono certo Era una fusione tra disgraziati e asciugamani Anzi a mei Ma quello è un elicottero Eh sì che è un elicottero Papam papam paparapapam La smetti di cantare La smetti di cantare la musichetta dell'uomo Ma andiamo No Cerchiamo di muoverci anche perché questa Siamo nella safe Sappiamo che alle spalle abbiamo i cecchini pazzi E davanti è un matto con l'elicottero che va in fiamme? Eh no è solo la skin È fichissima Ah è la misa che è quella di Travis Scott Può essere? Non ne sono certo Facciamo un nascondino con l'elicottero Che si traduce con Nascondiamoci dagli ufficiali della Gestapo Se no moriamo Esattamente Facciamo come i bastardi senza gloria Ma al contrario Non stanno venendo Ci ha visto Eh salve 3, 2, 1 È il momento della guerra Ah bene Ma non importa Perché io Ho la spada La spada Ho la spada Fagli vedere che sai fare con la spada La spada Aspetta che ho molta paura per la mia vita Accidonti Eh va bene Va bene Ce l'hai Lanciami Sì è il momento Uomo con lanciarazzi senza onore Travis Scott Maledetto Magrebino Mestra cura Non si ammazza Muoviti Io lo defletto Ma cosa io lo defletti? No non funziona Ne abbiamo parlato prima che non funziona No per niente Bravo Sei soddisfatto? Bravo C'i tua